Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Il 2012 ci troviamo nello stato del Tennessee, nello specifico a Tallahoma, una città immersa nella natura che si colloca nella contea di Coffey e si stende anche in una porzione nella contea di Franklin. Nelle prime ore del mattino del 2 luglio 2012, precisamente al lunediciotto, alcuni automobilisti stanno guidando sulla Howald Road nella contea di Franklin, quando notano un incendio piuttosto importante sul lato della strada. Decidono così di accostare, di scendere dalla macchina e di avvicinarsi per capire cosa sta andando a fuoco. Solo adesso si rendono conto che a bruciare è un corpo senza vita. Inorriditi dalla scoperta chiamano i servizi di emergenza e che si precipitano sul posto. Mentre i vigili del fuoco spengono l'incendio, la polizia comincia a investigare su un omicidio, perché chiaramente non si tratta di una morte naturale. La vittima è una giovane donna che indossa soltanto una maglietta, dove è cucito un logo che dovrebbe appartenere a una scuola per infermieri, poi dalla vita in giù è nuda. Questo sembra indicare che abbia subito violenza intima, infatti l'incendio si era localizzato principalmente nella sua zona pelvica, come se un accelerante fosse stato versato direttamente lì, nel tentativo di distruggere le prove della vita. Inoltre i detective notano anche delle ferite al cranio della vittima, che è distrutto, infatti riescono a percepire le ossa rotte al tatto. Questo suggerisce che la causa del decesso vada attribuita a un trauma da corpo contundente, ma l'autopsia rivela che pur una ferita d'arma da fuoco ha contribuito alla morte della donna. Sulla scena del crimine gli investigatori non l'avevano notata, perché era coperta dalla fuligine causata dall'incendio che offuscava il viso della vittima. Ma le hanno sparato in faccia ed è stata picchiata, probabilmente con il calcio della pistola. L'autopsia conferma inoltre ciò che la polizia aveva teorizzato. La giovane donna era stata aggredita intimamente e il medico legale stabilisce che era già morta quando il suo corpo è stato dato alle fiamme. Infatti non si evidenziano tracce di fuligine nei polmoni, quindi non l'aveva respirata. Gli esperti stimano che il suo corpo si trovasse sulla scena da circa un'ora e mezza prima di essere scoperto. Si presume che le abbiano sparato e che quindi l'abbiano uccisa altrove, poi in un secondo momento il corpo era stato portato sul luogo di ritrovamento e incendiato. Non è passato molto tempo prima che quegli automobilisti passassero di lì e chiamassero il 911. La priorità del dipartimento di polizia attualmente è identificare la donna assassinata, impresa ardua dato che sulla scena del rinvenimento del corpo non sono stati trovati né il suo telefono né un documento d'identità. Non c'era infatti alcuna borsa. Tuttavia sono d'aiuto i tatuaggi della vittima, una foglia di magnolia e un paio di stelle dietro entrambe le orecchie di cui vengono rilasciate le foto al pubblico. Vengono anche postate sui social media, nella speranza che qualcuno si faccia avanti, come infatti accade. Una donna, Kelly Sherpton, si mette in contatto con il detettivo assegnato al caso e riferisce che sua figlia Megan di 24 anni corrisponde alla descrizione della giovane donna trovata senza vita. Viveva a Tallahoma e aveva i medesimi tatuaggi. Ma facciamo quindi un passo indietro. Chi è Megan? Megan nasce il 24 ottobre 1987 dai genitori Kelly e Don ed è la secondo genita di sei figli. I suoi fratelli e sorelle si chiamano Caroline, Alex, Will, Cameron e Leah. Megan proviene da una famiglia tranquilla, trascorre un'infanzia felice e crescendo viene descritta come una ragazza gentile, affidabile e premurosa. Infatti ama prendersi cura degli altri. Sua sorella Carrie, che le era molto legata, la definisce compassionevole, genuina e divertente. Megan non abitava più con i suoi genitori ma con il suo ragazzo Chris Farrell, più grande di lei di un anno e con cui stava insieme da circa 4 anni. Megan era una studentessa, frequentava una scuola di infermieristica e ne mancavano ormai pochi mesi per laurearsi, quindi aveva già iniziato a cercare lavoro. Stava vivendo un periodo intenso ed emozionante, aveva trascorso l'ultimo anno studiando duramente e stava per scrivere un nuovo capitolo della sua vita con l'inizio della carriera. Domenica 1 luglio 2012, Megan doveva andare a cena a casa di sua madre. La loro era una tradizione perché ogni domenica Kelly cucinava per i suoi figli. Tuttavia Megan, a causa di un colloquio imprevisto, aveva avvisato del proprio ritardo. Sarebbe arrivata dopo cena, ma la sua famiglia l'aveva aspettata in vano perché di Megan non vera traccia e i suoi cari avevano pensato che l'esaminatore l'avesse trattenuta più del previsto. L'avrebbero indubbiamente vista il giorno seguente e non credevano ci fossero motivi per cui preoccuparsi. Ma quando Kelly, la mamma di Megan, vede le immagini dei tatuaggi diffuse dalla polizia, si insospettisce e contatta il detective. Kelly identifica la vittima come sua figlia e non sbaglia. Ora che la polizia ha ottenuto un'identità deve condurre alla svelta le indagini per trovare la persona responsabile del brutale omicidio di Megan. Gli agenti parlano a lungo con le persone più vicine alla 24enne per ricostruire i suoi ultimi movimenti. La famiglia di Megan racconta la polizia del colloquio che lei doveva sostenere e della cena in famiglia a cui non si era presentata. Poi la ragazza non aveva più dato sue notizie. Anche la sua macchina, quella con cui sarebbe dovuto andare al colloquio, risulta scomparsa. Non si trova nel luogo in cui è stato scoperto il suo corpo senza vita. La polizia, per tentare di individuare l'auto, lancia un avviso di allerta esteso agli altri dipartimenti di polizia. Così presto viene ritrovata, parcheggiata in una zona a circa 15-20 miglia di distanza dal luogo in cui era stato trovato il suo corpo. La macchina in realtà non presenta guasti, quindi Megan non era stata costretta ad abbandonarla per cercare un passaggio. Dall'analisi della vettura non emergono segni di lotta né tracce di sangue e non è chiaro perché sia stata abbandonata in quella zona. Tuttavia qualcosa di utile forse si rinviene. Un biglietto di carta dove sono annotate delle indicazioni su come raggiungere un indirizzo. Magari la sede del colloquio di lavoro che Megan doveva sostenere. La polizia indaga più a fondo e fa una strana scoperta. Quell'indirizzo non esiste, le indicazioni segnate sul foglio sembrano false. Forse l'assassino le aveva fornite? Sbagliate a Megan per isolarla? Forse anche il colloquio era una farsa? Nel frattempo altri detective stanno ancora parlando con i membri della famiglia di Megan. Annotano i dettagli della sua vita per cercare di scoprire se chi l'ha uccisa sia un estraneo o qualcuno che la conosceva. I suoi cari hanno sospetti? Carrie la sorella dice immediatamente di sì e fa riferimento al fidanzato di Megan, Chris. Ormai la relazione tra i due era in crisi da tempo, litigavano spesso e Megan non era più felice con lui. La polizia quindi va a parlare con Chris che sembra davvero turbato per la morte della fidanzata. Lui avrebbe un alibi, spiega che la notte in cui Megan era stata uccisa si trovava al lavoro, stava svolgendo il turno serale in un grande magazzino locale. Riferisce anche che una ragazza con cui Megan frequentava la scuola per infermieri, una certa Naomi, aveva interceduto per organizzare quel colloquio. La polizia gli chiede come fosse la relazione tra lui e Megan. C'erano problemi tra loro? Chris inizialmente minimizza le difficoltà di coppie affrontate ma poi racconta tutta la verità. Erano in piena crisi, litigavano spesso perché non avevano una visione comune del loro futuro. Megan era concentrata sulla carriera, ancora da avviare. Chris non era così focalizzato sul lavoro e il loro rapporto si era inasprito. Tuttavia lui nega di avere a che fare con l'omicidio di Megan, non le avrebbe mai fatto del male. La polizia non può comunque escluderlo già dalla lista dei sospettati ma intanto indaga anche su un uomo di nome Robbie, amico eppure coinquilino di Chris e Megan. Robbie viene convocato in stazione di polizia per rispondere ad alcune domande sul caso di Megan e conferma che Chris non è responsabile della morte della ragazza. Ma c'è di più, Robbie e Megan avevano iniziato a vedersi di nascosto da Chris. Come detto Megan e Chris erano in crisi, stavano per chiudere la loro relazione e lei aveva iniziato a provare dei sentimenti per l'altro coinquilino, ricambiata da Robbie. Così i due avevano iniziato a vedersi. Questo risvolto sentimentale potrebbe costituire un movente per Chris. Se avesse scoperto la relazione segreta tra Robbie e Megan e avesse deciso di uccidere la sua ragazza perché lei lo aveva tradito? Ma anche Robbie potrebbe essere l'assassino, infatti lui e Megan discutevano perché lei non aveva ancora interrotto ufficialmente la relazione con Chris e Robbie era arrabbiato per questo. La polizia dunque si sta interfacciando con due uomini che avrebbero un movente per il crimine. Decide così di sottoporre entrambi al test del poligrafo o della macchina della verità, che però non può costituire una prova concreta, infatti è inammissibile in tribunale. Chris e Robbie superano tutti e due il test, il che indicherebbe che stanno dicendo la verità, così vengono esclusi dalla lista dei sospettati. Tra l'altro gli investigatori hanno accertato l'alibi di Chris, che era al lavoro al momento dell'omicidio. Siccome reputano che anche Robbie sia innocente, la ricerca dell'assassino di Megan continua. Una linea di indagine che i detective stanno ancora approfondendo riguarda il presunto colloquio di lavoro che Megan aveva detto di dover sostenere la sera in cui era stata uccisa. La polizia continuava a interrogarsi sul foglietto con le indicazioni per raggiungere un indirizzo inesistente ritrovato nell'auto di Megan. Forse l'assassino l'aveva depistata solo per condurla in una zona isolata, dunque così come le indicazioni anche il colloquio di lavoro era falso. La polizia deve necessariamente ascoltare questa Naomi menzionata da Chris, cioè la collega di studi di Megan che l'avrebbe proposta per l'incarico. Controllando il registro studenti della scuola per infermieri, i detective individuano una certa Naomi Jones, annotano il suo indirizzo e un agente si lega a casa sua, ma non la trova. Un vicino però fornisce agli investigatori il numero di telefono di Naomi, quindi la raggiungono al cellulare. Naomi sostiene di non sapere nulla del colloquio di lavoro in questione, non aveva mai consigliato Megan a nessun datore. Inoltre dice il detective che lei e Megan non erano poi così tanto amiche. Semplicemente il marito di Nicole qualche volta aveva dato un passaggio in macchina a entrambe in vista delle lezioni cliniche infermieristiche. Dunque le due si conoscevano perché frequentavano la stessa classe, ma il loro rapporto finiva lì. Dopo aver ascoltato Naomi, i detective si ritrovano con più domande di prima. Forse Megan aveva mentito a Chris? E in tal caso, perché? Il 4 luglio 2012, due giorni dopo la scomperta del corpo di Megan, alcuni effetti personali che la ragazza aveva con sé la sera dell'omicidio vengono ritrovati, ma non dagli investigatori. Un uomo stava pescando in un torrente vicino e ha notato sia la tessera della previdenza sociale, sia la patente di guida di Megan che galleggiavano nell'acqua. Questo sembra un altro tentativo da parte del suo assassino per sbarazzarsi delle prove. La famiglia e gli amici di Megan, desiderose di fare tutto il possibile per supportare le indagini, decidono di raccogliere fondi per costituire una ricompensa da elargire a chiunque sarà in grado di fornire informazioni utili ad arrestare l'assassino. Col passare del tempo alcune voci circolano nella zona, traghettando con loro pure delle speculazioni. C'è chi teorizza che Megan non fosse l'unica vittima del misterioso assassino. Forse il suo omicidio è collegato a quello di un'altra studentessa di infermieristica, una ragazza di nome Holly Bobo. Holly aveva 20 anni quando è scomparsa il 13 aprile del 2011 a Dardin, nel Tennessee, a circa due ore e quaranta da Tallahoma. Holly rimarrà una persona scomparsa fino al 2014, quando verranno trovati i suoi resti, e si concluderà che era stata uccisa. L'omicidio di Megan dunque avviene un anno dopo la scomparsa di Holly. Come dicevo, alcune persone ipotizzano che i due casi siano collegati. Forse la persona che ha ucciso Megan è anche responsabile della scomparsa di Holly. I detective non escludono questa pista e cercano delle prove per darle sostanza, ma concludono che i casi di Megan e Holly non sono collegati tra loro in alcun modo. Bisogna attendere un paio di settimane dopo la morte di Megan affinché emerga un nuovo sviluppo nel caso, quando il fidanzato Chris comunica agli investigatori di aver trovato qualcosa di utile, il vecchio telefono di Megan. Quello che utilizzava il momento dell'omicidio non è stato rinvenuto, probabilmente perché l'assassino l'ha portato via con sé dopo il delitto, e la polizia non è ancora riuscita a localizzarlo. Chris però riferisce che Megan, per organizzare il colloquio, era stata contattata sul vecchio telefono. È riuscito anche a rintracciare il numero di chi aveva effettuato la telefonata, consultando il registro delle chiamate. La polizia lo analizza e scopre che il numero è associato a un telefono prepagato, il che rafforza la convenzione di un colloquio fittizio e dimostra che il delitto era stato premeditato. Il numero rappresenta la chiave per identificare l'assassino, ma siccome il telefono è prepagato, i dati contrattuali del proprietario non sono accessibili, ma la polizia riesce a determinare dove è stato acquistato, in un grande magazzino locale. Il personale del negozio spiega che 12 persone avevano acquistato questo tipo di cellulare e fornisce alla polizia le riprese delle telecamere a circuito chiuso. I detektivi esaminano i filmati che riprendono i 12 compratori di questi telefoni e la loro attenzione viene catturata da un giovane uomo in particolare, il quale ha già un cellulare che appoggia sul bancone. Perché stava acquistando un telefono prepagato, visto che ne aveva già uno? È lui l'uomo che ha ucciso Megan? La polizia lo rivede nel filmato di un'altra telecamera a circuito chiuso che le inquadra nel parcheggio, mentre cammina verso un camioncino rosso. Ha lasciato in effetti il furgone nell'area più lontana del negozio, forse perché credeva che le telecamere di videosorveglianza non lo avrebbero ripreso laggiù. Gli investigatori recuperano una fotografia del giovane dal filmato e la mostrano ad altri agenti di polizia in altri dipartimenti, nella speranza che qualcuno lo riconosca. Come accade in effetti? Si tratta di Timothy Gifford, un corriere locale di sostanze. Timothy viene convocato alla stazione di polizia per un interrogatorio e gli viene mostrato il filmato in cui acquista il telefono prepagato. I detective gli dicono che non si mette affatto bene per lui, che sospettano che abbia usato quel cellulare per contattare e ingannare Megan. È lui il colpevole? Timothy nega di essere l'assassino di Megan, ma, ancora di più, dice di non sapere nemmeno chi lei sia. Si riconosce nel filmato, ma spiega che qualcun altro l'aveva mandato nel grande magazzino a comprare il telefono, circa un mese prima della morte di Megan. La persona che lo avrebbe incaricato è un uomo di nome, Donnie Jones. E non è la prima volta che i detective sentono questo nome. Donnie è noto alle forze dell'ordine come informatore della polizia con una fedina penale piena di macchie. Era stato in prigione per reati come furto e vendita di sostanze. Era stato accusato di violenza intima in passato e, come già sappiamo, Megan aveva subito un'aggressione di questo tipo dal suo assassino. La polizia indaga e scopre che Donnie è sposato proprio con Naomi, la compagna di studi di Megan. Se siete stati attenti avrete già associato a lei il suo cognome. Eppure, se ricordate, Naomi aveva negato quanto sostenuto da Chris, cioè di aver interceduto per procurare a Megan quel colloquio. Mentre continua a parlare con Timothy, la polizia scopre che il camioncino rosso parcheggiato fuori dal grande magazzino apparteneva a Donnie, il quale, proprio pochi giorni dopo l'omicidio di Megan, lo aveva pulito meticolosamente. Aveva persino sostituito diversi interni dell'auto, come il tappetino. Forse stava tentando di sbarazzarsi delle prove del delitto? Donnie, successivamente, aveva ceduto il furgone al fratello di Timothy. Gli indizi contro Donnie iniziano ad accumularsi. Il telefono prepagato, il camioncino, il finto colloquio di lavoro e il fatto che fosse sposato con una donna che conosceva Megan. Insomma, Donnie sembra proprio l'uomo che la polizia sta cercando. Dopo aver raccolto la dichiarazione di Timothy, la polizia va a casa del sospettato. Donnie nega immediatamente di essere coinvolto nell'omicidio di Megan. Dice che la conosceva malapena. Nega anche di aver chiesto a Timothy di comprargli quel telefono prepagato. Aggiunge che la notte dell'omicidio di Megan lui era a casa con i figli e si stava prendendo cura di loro. Il suo però non è un alibi di ferro, infatti Donnie avrebbe potuto uscire di casa per commettere l'omicidio mentre i bambini dormivano. Nella sua abitazione viene condotta una perquisizione, ma non si rilevano elementi collegati al crimine. La polizia sequestra il vecchio camioncino rosso di Donnie che viene consegnato alla scientifica, ma anche in questo caso non emerge nulla di rilevante. Tuttavia gli esperti confermano che era stato recentemente ripulito a fondo e che gli interni sono nuovi di zecca. La polizia chiede a Donnie l'autorizzazione di prelevargli un campione di DNA e lui accetta di sottoporsi all'analisi. Non sa che il suo profilo genetico sarà confrontato con quello dell'assassino ricavato dal liquido seminale presente sul corpo della vittima. E la corrispondenza? C'è. Donnie viene nuovamente interrogato alla stazione di polizia, ma gli investigatori non gli rivelano subito delle prove del DNA. Decidono prima di fargli qualche domanda. Forse lui e Megan avevano avuto una relazione durata anche solo una notte? Lui risponde di no. Seconda domanda. Aveva visto Megan e avuto qualche contatto con lei il giorno della sua morte? Donnie nega di nuovo. Non sa che si sta incastrando con le proprie parole. Infatti un detective gli dice. Allora spiegaci perché il tuo DNA è presente sul corpo della vittima. Donnie resta abbastanza sbigottito da questa informazione, si arrabbia con i detective e poco dopo cambia completamente la sua versione dei fatti. Dinanzi a una prova evidente come quella del DNA ammette che aveva visto Megan quel giorno ed era andato a letto con lei. Un rapporto che definisce consensuale. Tuttavia Donnie afferma che non è stato lui ad ucciderla. Deve averlo fatto qualcun altro dopo che loro due avevano consumato un rapporto intimo. Ovviamente la polizia sa che sta mentendo, è certa che è lui l'assassino, ma non ha prove sufficienti per dimostrarlo al di là di ogni ragionevole dubbio. Intanto gli agenti sono costretti a rilasciarlo, ma continuano a cercare prove concrete che lo colleghino all'omicidio. Decidono così di esaminare più a fondo i dati dei localizzatori GPS in relazione a quattro telefoni diversi. Quello di Donnie, quello prepagato, quello di Timothy e quello di Megan. Ricordo che il cellulare di Megan non è stato ritrovato, ma la polizia riesce a risalire da alcuni dati per determinare dove è finito. Incrociando le informazioni fornite dai quattro telefoni, i detective vogliono localizzarli la sera in cui Megan era stata assassinata. Forse la posizione di tutti i cellulari era la stessa e ciò significava che Donnie e Timothy avevano raggiunto Megan per ucciderla. L'analisi GPS di tutti i telefoni richiede circa due settimane di tempo e intanto la polizia non può far altro che aspettare. Stavolta però durante l'attesa riescono ad arrestare Donnie, il loro sospettato principale che si aggiudica delle accuse estrane al caso di Megan. La polizia infatti ha trovato un fucile nel bagagliaio della sua macchina. Non è la stessa arma usata per sparare a Megan, ma dopo che Donnie era finito in prigione gli era stato vietato di possedere un'arma da fuoco. Non molto tempo dopo l'arresto di Donnie arrivano i risultati delle analisi sui dati telefonici e del GPS, i quali dimostrano che la sera del primo luglio 2012 il cellulare di Timothy non era entrato in contatto né con il telefono prepagato né con quello di Megan, quindi il giovane viene ufficialmente escluso dalla lista dei sospettati. Invece il telefono prepagato e quello di Donnie si trovano nella stessa posizione, dunque lui era in possesso di entrambi i cellulari come sospettato. Inoltre si conferma che il telefono prepagato era entrato in contatto con quello di Megan. La ragazza aveva fatto una chiamata a Donnie sul telefono prepagato mentre cercava di comprendere le false indicazioni che lui le aveva fornito per dirigersi al finto colloquio. Ancora dopo il telefono prepagato e il cellulare di Megan si localizzavano nella stessa posizione, vale a dire nella zona in cui la macchina della ragazza era stata ritrovata. La polizia dunque crede che Megan sia stata rapita proprio lì. In seguito i dati dei telefoni evidenziano che Donnie e Megan si erano diretti in una zona agricola lì vicino. A questo proposito la famiglia di Donnie possiede molti terreni agricoli e fattorie nel Tennessee. Ancora più tardi, quella notte, i telefoni vengono localizzati nel luogo in cui era stato ritrovato il corpo di Megan. Questa è una prova concreta che conferma che il suo assassino è proprio Donnie. Ogni elemento raccolto indica che Donnie aveva pianificato l'omicidio già da un po'. Aveva chiesto a Timothy di comprargli un cellulare prepagato circa un mese prima del delitto e probabilmente l'aveva pagato per i suoi servigi. Si ritiene che Megan non fosse l'unica vittima adocchiata da Donnie per esercitarle violenza e ucciderla. Infatti risulta che lui aveva usato il telefono prepagato per contattare diverse giovani donne. Anche le altre operavano nel settore dell'assistenza sanitaria, esattamente come Megan, che era una collega di studio di sua moglie Naomi. Se ricordate Donnie aveva dato più volte a entrambe un passaggio verso la scuola per infermieri. Magari aveva sbirciato tra i contatti telefonici di sua moglie per adescare le proprie vittime. Aveva raccontato a Megan una bugia dicendole che stava cercando un'infermiera ad assumere, che sua moglie Naomi gliel'aveva caldamente raccomandata, quindi voleva offrirle la possibilità di sostenere un colloquio nella sera della domenica 1 luglio 2012. Donnie aveva fornito a Megan le false indicazioni che lei aveva annotato sul foglietto di carta ritrovato in macchina. Ma siccome faticava a trovare la strada visto che l'indirizzo in realtà non esisteva, aveva chiamato il suo futuro assassino sul telefono prepagato. A quel punto lui l'aveva indirizzata verso il luogo in cui era stata poi ritrovata la sua macchina. Lì aveva rapito Megan, probabilmente sotto la minaccia di una pistola, e l'aveva fatta salire a bordo del suo camioncino rosso. Dopodiché Donnie aveva guidato fino ad arrivare in una delle fattorie della sua famiglia. È lì che si ritiene fosse avvenuto l'omicidio. Dopo aver esercitato violenza su Megan, Donnie l'aveva colpita alla testa e le aveva sparato in faccia. Quando la polizia perquisisce il terreno agricolo in un barile bruciato, trova proprio la sciarpa che Megan indossava quella sera, viola e decorata con delle stelle. Questo dimostra ulteriormente che lei era stata nella proprietà. Dopo averla uccisa, Donnie aveva infilato il corpo di Megan nel suo camioncino per poi guidare fino a The Walt Road. Aveva estratto il cadavere dal furgone, l'aveva riposto sul terreno e gli aveva versato sopra un accelerante, soprattutto nella zona pelvica, come detto. Infine era risalito sul suo camioncino e se n'era andato. Poco dopo alcuni automobilisti avevano scoperto il corpo della giovane vittima e chiamato il 911. Questa è la ricostruzione dei detective che, ricomponendo tutti i pezzi di questo tragico puzzle, hanno ottenuto una notevole quantità di prove contro Donnie. Il 5 novembre 2012 riescono ad accusarlo di rapimento aggravato, violenza intima e omicidio di primo grado, più di quattro mesi dopo la morte di Megan. Donnie continua a sostenere la sua innocenza, nega di essere l'assassino della 24enne e si crede che il caso finirà processo. Ma poi si dichiara colpevole. Ha stipulato un accordo con i pubblici ministeri in base al quale ha accettato di confessare l'omicidio e dichiararsi colpevole, a patto che per lui non venisse richiesta la pena di morte. Il 4 febbraio 2013 Donnie Jones viene condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Dopo la risoluzione del caso a memoria di Megan, viene ideata un'installazione che comprende 24 stelle, una per ogni anno che lei ha vissuto, alta a sette piedi e collocata sul luogo in cui il suo corpo era stato ritrovato. Come già intuibile dalla sciarpa e dai tatuaggi dietro le orecchie, Megan adorava follemente le stelle e di sicuro anche lei nella sua esistenza avrebbe brillato come una stella se un perverso assassino non avesse scelto di spegnere la sua luce. Purtroppo questa non è l'unica tragedia che la famiglia Sharpton deve affrontare, perché un anno dopo la morte di Megan viene a mancare anche sua mamma Kelly. La donna si è tolta la vita in un hotel l'8 novembre 2013, otto mesi dopo la condanna dell'assassino di sua figlia. Aveva 47 anni. Gli articoli che ho letto rivelano che aveva lottato per resistere al dolore fino a che ha avuto giustizia con la condanna di Donnie, ma poi si è ricleduta. Giustizia è una parola che dà conforto alla società, la quale deve chiudere le questioni e andare avanti, ma non è una parola per le famiglie delle vittime, ha detto. Kelly non è più riuscita a sopportare di vivere in un mondo così brutale e violento, per lei era opprimente. Quindi in un certo senso possiamo affermare che Donnie Jones si è preso due vite, quella di Megan con la forza e quella di sua madre indirettamente. Prima di farla finita, Kelly ha affermato che, dopo la morte di sua figlia, ogni singola mattina si svegliava e, quando apriva gli occhi, rivedeva il suo volto senza vita. Posso immaginarlo, ma non posso sapere quanta sofferenza investiva l'anima di Kelly. I miei pensieri vanno anche al resto della famiglia Sharpton, che ha perso due pilastri importanti del suo nucleo, entrambi in circostanze orribili. Anche questo caso, nonostante sia avvenuto più di dieci anni fa, getta un'ombra profonda su un tema che purtroppo è sempre cruciale e richiede nuovi interventi, quello della sicurezza delle donne e della pervasività della violenza di genere. Ragazzi, ho finito di parlare in questo video. Ho iniziato a interessarmi a questo caso quando ho scoperto che il corpo era stato incendiato. Sono delle modalità di uccisione, quella di incendiare il corpo, che mi stupiscono sempre. Però poi è uscito fuori che è stato il suo corpo, insomma, è stato incendiato dopo l'omicidio. Tuttavia ho trovato questo caso interessante anche per come Donny ha cercato di attirarla a sé e come è riuscito ad attirarla a sé. Quindi tramite un lavoro, un colloquio di lavoro, un qualcosa a cui Meghan teneva tanto. E sono molto molto dispiaciuta, davvero. È terribile vedere che una ragazza così giovane si è spenta semplicemente perché un uomo aveva voglia di fare violenza e poi di uccidere una donna a caso, perché poi realmente Meghan è quella che ci è cascata. Però Donny aveva, come vi ho detto, contattato altre persone, probabilmente ragazze che facevano parte della classe di Meghan, che però, per un motivo o per l'altro, insomma, non ci sono cascate, se così vogliamo dire. Io avrei trovato strano onestamente il fatto di avere un colloquio la domenica, però non so esattamente come funziona, magari, non lo so, Donny gli ha detto guarda ti faccio un favore, ti ascolto domenica perché poi non ho più tempo, però voglio darti una possibilità. Noi questo non lo possiamo sapere, io non ho trovato fonti nel merito. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate voi qui sotto nei commenti, come al solito, conoscevate già questo caso, scrivetemi tutto quello che volete qui sotto nei commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video, mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non faciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!